Ehi! 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 Ma che come un'amica vettura che adesso avrà a conto di oggi? Mie! Ma che? Mi sa che non è che ero che ero che erano a conto di oggi? Mi sa che l'amica era che ero che era stupendo la roba. Mi sa che lo sa... E' il mio stress che va non curandosi E' non curandosi E' il mio stress che ti fa la vita di questo! E' ovvero un altro disco che era? No, 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 no. No, 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 no.